Buongiorno e benvenuti a questa edizione del Distesto Tg. Apriamo con uno sguardo alle pagine dei giornali online, nella rassegna a cura della nostra Evalberti. Buongiorno, i giornali di oggi aprono su Matteo Renzi che si presenterà al Senato alle 14 per chiedere la fiducia. Vediamo il Corriere della Sera, Renzi al Senato, la prova della fiducia, prima notte a Palazzo Chigi del Premier. Subito sotto il Corriere sceglie di evidenziare i primi problemi dell'esecutivo Renzi. Infatti il PD attacca il neoministro dello sviluppo economico Federica Guidi perché secondo alcuni esponenti del PD come Fassina è incompatibile con il governo. All'interno vediamo l'unità, riprende proprio l'intervista a Fassina nel quale si dice che la Guidi è incompatibile con l'incarico in quanto la sua famiglia detiene la Ducati Energia e quindi ha un conflitto di interessi. Sulla questione si era espresso però il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Rio durante l'intervista di ieri a mezz'ora di Lucia Annunziata nella quale aveva dichiarato che la questione sarebbe stata presa in considerazione dal Presidente del Consiglio. Sempre nello stesso ambito aveva dichiarato l'ipotesi di aumentare la tassazione dei bot. Ieri un incontro tra Matteo Renzi e il Ministro dell'Economia Padoan ha molto ridimensionato questa affermazione dicendo che al massimo non ci sarebbero state nuove tasse mentre i primi provvedimenti del Governo si sarebbero concentrati su taglia alla spesa pubblica e mobilità dei dirigenti. Veniamo a Repubblica che invece apre su la questione Marot ovvero oggi era giorno di udienza presso la Corte Suprema e il Governo indiano ha detto che non sarà applicata la legge antiterrorismo. Il suo act che prevedeva la pena di morte. Questa è una buona notizia ma solo parziale come sottolinea Repubblica. New Delhi esclude l'applicabilità al caso dei due fucilieri italiani del suo act ma chiede che a formulare i capi d'accusa sia la NIA l'unità antiterrorismo della polizia che svolse le indagini. Per questo motivo la difesa ha dichiarato che il capo d'accusa va riformato e l'udienza è stata rinviata nuovamente per la ventisettesima volta. Veniamo al giornale che apre sulla questione Marot Marot non sarà applicata la legge antiterrorismo, viene subito cantata Vittoria e più in basso si parla invece della questione Montepaschi. Oggi infatti la Guardia di Finanza ha scatenato i finanzieri in perquisizioni a 11 indagati. sono i cosiddetti esponenti della banda del 5% che sono ex dipendenti della banca, ex broker che facevano la cresta su una serie di operazioni finanziarie. Come viene riportato dal giornale e anche dalla stampa vediamo che sarebbero stati sottrati in questa maniera 47 milioni di euro. Veniamo al fatto quotidiano che ha un'apertura originale nel panorama italiano, apre con cultura all'estero mangiata dalla politica, l'imballatore diventa esperto scientifico. In particolare si parla di incarichi ad persona. Uno sguardo internazionale, vediamo che il Financial Times apre sulla questione ucraina che è l'altra questione del giorno, ovvero il mandato d'arresto per massacro al presidente Yanukovych, ex presidente, perché da sabato è stato dichiarato decaduto ed è attualmente in fuga con questo mandato d'arresto. Con questo posso dichiarare, chiusa la rassegna stampa, a te Maria Chiara. Grazie Eva e appunto oggi nuovo round sul caso Marò. La procura indiana ha infatti deciso di non ricorrere alla legge antipirateria contro i due fucilieri italiani. Il punto di Alessandro Minissi. Come avete sentito in rassegna stampa, questa mattina la Corte Suprema indiana doveva decidere con quale legge mandare a processo e giudicare Massimiliano Girone e Salvatore Latorre, i due Marò italiani accusati di aver ucciso due pescatori a largo dell'India. Il portavoce del Ministero della Giustizia indiano, Van Vati, ha suggerito al giudice di non applicare la legge antiterrorismo su act, ma comunque di far presentare i capi d'accusa dall'NIA, la polizia antiterrorismo, che ha curato le indagini. L'avvocato difensore dei due italiani ha risposto che è impossibile utilizzare la polizia NIA in assenza dell'applicazione della legge antiterrorismo. E per questo motivo il giudice ha rinviato l'udienza a tra due settimane, per permettere alle parti di presentare e motivare le loro posizioni. Dal canto suo l'Italia rimane convinta di voler affidare il caso alla comunità internazionale, coinvolgendo la Corte dell'AIA e il Tribunale dell'ONU, perché non si vuole riconoscere alla giustizia indiana la legittimità a trattare il caso, poiché il fatto sembra essere avvenuto in acque internazionali. È tutto, a voi la linea. E al via la prima settimana di lavoro per il nuovo governo Renzi. Il primo passo fra meno di due ore con il voto di fiducia al Senato. Qui in studio Enrico Tata ce ne parla nella sua nota politica. Sì, oggi Senato, domani mattina fiducia alla Camera, Matteo Renzi alla prova del Parlamento. Diciamo subito che i numeri al Senato, che è il punto critico, ci sono, o almeno ci dovrebbero essere maggioranza, 161 voti. Renzi dovrebbe averne circa 175. Cioè i voti dei senatori del Partito Democratico, i 31 di nuovo centrodestra, la pattuglia di scelta civica, compreso Mario Monti, il gruppo delle autonomie linguistiche e poi i senatori di Popolari per l'Italia, che fanno riferimento all'ex ministro della difesa, Mario Mauro. Di cui però va registrato un certo malumore, voteranno, dicono, solo per senso di responsabilità. I numeri sono gli stessi del governo Letta, che però, la stessa identica maggioranza, ma però Letta aveva alla fiducia più voti, perché aveva anche quelli di Forza Italia. Forza Italia, che questa volta dovrebbe votare contro, a meno di sorprese. Ma, scrive qualche giornale, potrebbe arrivare già subito il soccorso di Berlusconi, se dovessero esserci problemi di numeri, sono stati già allertati i senatori di grande autonomia e libertà, che potrebbero soccorrere Renzi. Di certo, questo non sarà un governo del Presidente della Repubblica, e Napolitano l'ha ribadito più volte, e sarà il primo, in questo senso, dopo Monti e Letta. Ma, si tratta di un governo politico, o di larghe intese, questo è il grande nodo, rimane questo il nodo centrale. Renzi fa sapere, da tutte le parti, che, di certo, non sarà un nuovo esecutivo Letta Alfano. Questo è il governo di Matteo Renzi, e solo di Matteo Renzi. Se sarà necessario, si potrà sempre staccare la spina. Questa è l'arma di ricatto verso Alfano. Enrico, puoi dirci qualcosa di più riguardo alla posizione di Civati? Voteranno la fiducia? Sì, guarda, allora, è rientrato il dissenso di Pippo Civati. Pippo Civati, ieri con i suoi sostenitori, si sono incontrati a Bologna. Civati ha detto che vorrebbe non votare la fiducia, vorrebbe votare contro, però questo significherebbe uscire dal Partito Democratico, quindi anche lui voterà la fiducia, e con lui i suoi sei senatori, i senatori che fanno capo a lui. C'è da dire anche che in un sondaggio lanciato sul suo blog, proprio per capire l'umore dei militanti, questo sondaggio è finito con un leggero vantaggio di chi pensa che votare la fiducia sia una buona cosa, sia necessario. Se non ci sono altre domande, questo è tutto, linea a te Maria Chiara. Grazie Enrico, e passiamo ora agli esteri, in particolare alla situazione dell'Ucraina, dove stamattina è scattato un mandato d'arresto per l'ex presidente Yanukovic. Ce ne parla la nostra inviata, Silvia Ricciardi. Yanukovic in fuga e una nuova Ucraina, grazie al popolo di Euromaidan, che ha vinto la sua rivoluzione. Un nuovo cambio di prospettiva per il Paese, dopo tre mesi di rivoluzioni nella piazza pro Europa, è stata scarcerata Giulia Timoshenko sabato, e da un lato è pronta a scendere alle prossime presidenziali del 25 maggio, mentre Yanukovic è stato avvistato l'ultima volta in Crimea e contro di lui c'è un mandato del Parlamento ucraino che lo accusa di crimini di uccisione di massa. Dal punto di vista degli obiettivi di breve periodo, per ora l'Ucraina sta cercando di mantenere l'ordine e la pace e dall'altro di non creare separatismi all'interno del Paese. Per quanto riguarda invece gli obiettivi internazionali, si ricerca un riavvicinamento all'Europa e un rapporto con la Russia su nuove basi. A voi la linea. E a vent'anni da Tangentopoli è ancora così esteso il sistema di corruzione in Italia. Il Movimento 5 Stelle ha organizzato sul tema un incontro alla sede della regione Lombardia. Ce ne parla il servizio di Evalberti. Ma io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. 22 anni dopo Tangentopoli torna al Pirellone. Gerardo Colombo e Francesco Greco, due dei PM di Mani Pulite, parlano dell'eredità di quella stagione all'incontro promosso dai consiglieri 5 Stelle di regione Lombardia. Da una parte si sono modificati anche i sistemi di corruzione e dall'altra io credo che il finanziamento illecito sia notevolmente diminuito. Però il tasso di corruzione, secondo me, in questo Paese, come impressione, ripeto, è un tasso che mi pare particolarmente elevato. Oggi i tribunali lottano contro corruzione ed evasione fiscale. Secondo Greco, problemi che si possono combattere con più coordinamento da parte delle autorità e grazie al progressivo abbandono della carta a favore del più tracciabile web. Ma anche il concetto di tangente è cambiato. Dal corso di tangente bisogna mai sostituire tante cose. Non è più solo il denaro, ma è, come dire, la cantela, è un modo di gestire il potere, una compartecipazione alla gestione del potere. È una cosa molto complicata e diffusa. Addirittura abbiamo visto che, anziché tangente, alcune persone preferivano essere pagate in escoto. Ma non bisogna dimenticare che le tangenti sono una questione di cultura che può essere educata. La strada più semplice, meno costosa, più facile, ma che fa declinare l'impresa e il paese è il pagamento della tangente. E ieri sera a Milano un brutto caso di cronaca. Un tassista è finito in coma dopo essere stato aggredito da un pedone. Luigi Caputo ci aggiorna sulle sue condizioni e sull'accaduto. È stato identificato l'uomo che la scorsa notte ha aggredito un tassista a Milano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l'uomo sarebbe stato aggredito perché, mentre guidava il suo taxi, ha quasi investito l'uomo e la donna che lo accompagnava in avanzato stato di gravidanza. Sceso per scusarsi con la coppia, l'uomo è stato aggredito con colpi alla testa che lo hanno ridotto in coma. Dall'ospedale Niguarda, dove è ricoverato il tassista, fanno sapere che l'uomo è in gravi condizioni e ha rischio di vita. L'azienda per la quale lavorava il tassista ha fatto sapere che è il terzo caso di violenza in una settimana e tre anni fa un altro tassista è morto in circostanze analoghe. Per ora il tutto restituisco la linea. Entro il 2018 dovrebbe essere completato il progetto della Città della Salute e a breve dovrebbero partire anche le bonifiche. Ce ne parlano nel loro servizio Vincenzo Scaglierini e Andrea Tornago. Dopo lo scandalo delle tangenti che ha coinvolto l'ex sindaco e dirigente del PD Lombardo, Filippo Penati, Sesto San Giovanni ci riprova con un convegno organizzato il 18 febbraio nella sede del Comune per presentare le nuove procedure di bonifica dell'ex area FALC, dove sorgerà la Città della Salute, centro medico d'eccellenza. Gli assessori all'ambiente di Regione Comune Claudia Terzi ed Elena Jannizzi hanno discusso con un alto funzionario del Ministero dell'Ambiente e con imprenditori e associazioni del settore su come avviare le bonifiche nel rispetto della legalità. Quello su cui stiamo lavorando è un protocollo di legalità che ci vede quindi insieme alla prefettura direttamente coinvolti in una definizione di un protocollo che vada a tutelare per poi la legalità all'interno del sito della Città della Salute. Quindi, riflettori puntati, benissimo, noi li vogliamo perché vogliamo che tutto sia il più trasparente possibile. Fino al 1995 l'area FALC era a sede del colosso dell'acciaio milanese. Ora rimangono 1500 km2 altamente inquinati. I veleni presenti nel terreno sono stati individuati dallo studio guidato da Claudio Tedesi, arrestato per la maxitruffa nella bonifica di un altro sito inquinato, quello dell'ex CISAS di Pioltello. La caratterizzazione del terreno contaminato è stata affidata a Telesi, già indagato. Su questo voglio dire che le caratterizzazioni vengono controllate, per cui al di là di quello che è successo a questa persona che comunque, voglio dire, non è indagata per quanto riguarda Sesto San Giovanni, ma per quanto riguarda un altro sito, questa ora la magistratura andrà a vedere cosa è successo lì, per quanto riguarda Sesto San Giovanni è stato controllato ed è comunque tutto stato fatto nella regola. Per cui andiamo avanti a controllare e continueremo così. E si chiude oggi la settimana della moda milanese, eventi sempre più affullati e più social. Nel servizio di Giorgio Avizeman i numeri e volti dei partecipanti più affezionati. Tecnologica, social è sempre più ricca. L'alta moda femminile torna a Milano con la collezione Autunno-Inverno 2014-2015 e tra maxi schermi e app coinvolge l'intera città. 64 sfilate, 143 collezioni e centinaia di eventi collaterali. Sono questi i numeri della settimana della moda milanese lunga 5 giorni dal 19 al 24 febbraio. Ora ci troviamo di fronte allo showroom di Fendi dove tra qualche minuto inizierà l'evento ma prima della sfilata delle modelle all'interno dello showroom c'è quella di VIP e Curiosi all'esterno. Siamo un po' presenzialiste diciamo di queste sfilate di moda. E cosa fate nella vita per curiosità? Studentesse con hobby per la moda. Tra pellicce, scarpe multicolor e gli immancabili occhiali da sole Milano Moda Donna fattura 15 miliardi di euro un quarto di quanto guadagnato dall'intero sistema. Il comune che patrocina l'iniziativa quest'anno ha installato maxi schermi in vari punti della città per permettere a tutti di seguire le sfilate di solito riservate solo a pochi eletti. E oltre a essere più democratica la moda ha incontrato anche la tecnologia. Fendi ad esempio ha utilizzato dei droni per riprendere dal vivo la passerella. Gli utenti che si collegavano al sito della Maison potevano scegliere da quale punto di vista guardare la sfilata. Una prospettiva nuova e insolita per non dimenticare ciò che la moda fa da sempre. Stupire. Non solo moda al centro dell'ultima settimana milanese il 21 febbraio si è infatti conclusa la Social Media Week 5 giornate dedicate al mondo digitale e della tecnologia usata nella comunicazione. Ci sono stati i nostri Susanna Combusti e Carlo Marsilli. La parola d'ordine è gettare i punti per unire quelle diversità che prima non si potevano incontrare. Tra gli eventi della Social Media Week non poteva mancare un incontro sulle differenze di genere di età ma anche fisiche che proprio attraverso la rete comunicano e si esprimono. Qui non sappiamo mai come agire e come interfacciarci con una persona che come me per esempio evidentemente è una persona con disabilità. Invisibili e questo è un altro nome che potremmo utilizzare per definire persone con disabilità perché talvolta non vogliamo vederle e non le vediamo perché non escono di casa per motivi di disabilità anche grave. Diversità anche nel modo in cui uomini e donne cercano lavoro e mentre Facebook aggiunge 50 nuove voci di genere a fianco a quelle tradizionali a terzo piano della Mondadori di Piazza Duomo o di Robotti spiega come le donne debbano ancora imparare a sfruttare le potenzialità della rete. Le donne tendenzialmente esprimono meno la propria ambizione non che siano meno ambiziose necessariamente ma la esprimono meno e tendono a autopromuoversi di meno quindi il problema non è l'uso della tecnologia il problema è un po' con se stesse di ammettere di averne voglia e di sapere anche come fare a posizionarsi come marca. Comunicare sì ma uno dei rischi dei social è proprio quello di creare comunità esclusive con una forte personalità ma chiuse verso l'esterno quindi l'unico modo per superare questo tipo di problemi è semplicemente raggiungere una consapevolezza che va al di là del mezzo e concludiamo con il calcio la Juventus si aggiudica il derby della Mole tra le polemiche e chi non ne fa proprio a meno è Mario Balottelli che è finito in un'accesa discussione in discoteca ce ne parla Francesco Paolo Giordano è lunedì incandescente a Torino dove la Juventus vince il derby con una rete di Tevez ma infuriano le polemiche per l'arbitraggio di Rizzoli il Torino contesta la mancata concessione di un calcio di rigore e la mancata espulsione di Vidal ma i bianconeri proseguono la loro marcia inarrestabile in classifica sono a più nove sulla Roma che sabato ha battuto 1-0 il Bologna sorride anche il Milan vittorioso per 2-0 a Genova contro la Sampdoria ma esplode un nuovo caso Balotelli che sarebbe stato protagonista di una lite con un fotografo in una discoteca di Santa Margherita Ligure il Milan sul suo sito ufficiale smentisce la ricostruzione e nega il coinvolgimento dell'attaccante nella discussione meno bene invece l'altra milanese l'Inter fermata su una 1 dal Cagliari a San Siro e oggi il turno di Serie A si conclude con due posticipi alle 19 Parma Fiorentina e alle 21 Napoli Genoa la linea torna allo studio e con lo sport è tutto chiediamo a De Valberti se ci sono ultimi aggiornamenti sui siti online sì diciamo che l'ultimo aggiornamento è che il governo egiziano si è dimesso l'ha detto poco fa il primo ministro El Reblaui senza fornire ulteriori spiegazioni quindi adesso attualmente l'Egitto è ancora in attesa di un primo ministro grazie Eva e con questo è tutto un saluto dal Dissesto Tg e arrivederci alla prossima edizione Al prossima Grazie per la visione!